Musica Ok salve a tutti ragazzi benvenuti a Slender e sono insieme a SimoDG98 Ok iniziamo Io c'ho una paura matta ragazzi Però si vede stra bene vero? Si vede in HD da me sembra vero? Attenzione Attenzione piano mamma mia Io ragazzi se appara improvviso veramente stoppo il video Attenzione che se sentite degli urli è molto normale Esatto E comunque lo scopro del gioco Ah scusate un messaggio E trovare degli orsacchiotti Degli orsetti Con un coltello che si ammazza Non girare drasticamente capito? Cioè non devi girare Lo so che ti viene da farlo Leggiamo C'è scritto? Ok non si può scappare Vedi non devi girare così drasticamente Vedi così Devi fare più Ecco là ce n'è uno Ok Ok ragazzi Appena si prende il primo Si comincia Comincia a pedinarci Ecco vedi Ecco vedi Non dovevi girarti così Appena ne pigli uno Perché lui lo fa apposta E adesso ma E questo è il bello Attenzione No non fare Ecco esci fuori Esci fuori che c'è la luce No perché c'è Ecco vabbè Vai piano qua Ok 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 Io sento l'ore Sì slender Sì 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 Attenzione Attenzione Ma dobbiamo paura Se viene improvviso Oh Ce l'abbiamo vicino Ce l'abbiamo vicino Perfetto Ancora meglio Quando fa così Vuol dire che ce l'abbiamo vicino Cioè tu devi convincerti Che lo slender È un pirla Che non fa paura Esatto E quindi tu Beh avanti Attenzione che potrebbe essere qua dietro Ma lo spero Sentirete delle urla molto confusate Ma dovevo mi smavere te l'avevo visto È vero Eccola c'è un altro Oh cavolo al secondo Mi ha il terzo teddy bear Fa quella musica Sei tom Sì La musica tambure Non girarti piano Piano Ok Oh cavolo ok Cos'è? Piano non devi girarti drasticamente così Si muovera Ma io spero di vederlo No 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 invece no È proprio un lurido Dove che ci viene da tornare poi Perché ho giocato allo slender normale E nel bosco l'ho incontrato Che mi fissava da lontano Piano Cos'è quello? È un corpo morto Piano Sì momado Porca miseria C'è una X Help Che c'è scritto qua? Sulla lavagna? No qua qua vediamo Ah strane tipo save Vabbè le solite cose Save meno Escape Cos'è? Quella roba Ah cos'è un teddy bear Ok ok Un teddy No questo è il corridoio Quello schifoso Che appena ti giri te lo trovi davanti Perché vedi un corridoio al chiuso Ok Ok io comincio a girarmi Ok 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 non c'è non c'è Questa musica è molto Ecco Perché tanto voi non la sentite Perché ho registrato solo il microfono Sennò non si sentiva la nostra voce Ok io so che Io so che è qua E qua E qua E qua E qua E qua E qua Simo non devi giarti così drasticamente Veramente No non facciamoci ingannare da quest'audio Esatto Lo fanno solo per metterti Paura Mamma mia Hai sentito quel rumore? Eh Sì tipo tac Piano Non voglio girare Alla mia sinistra Eh esatto 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 Non devi girarti a sinistra Te lo stavo per dire Mamma mia Ok adesso Ok è qua vicino Me lo sento Ecco Si esatto Si può andare fuori Ok ok Perché questo posto non mi piace per niente Esatto E c'è un teddy bear mi sembra a sinistra Perché ho visto dei video Aspetta Può anche apparerti qua Però vedi Fa meno paura Ecco vedi là il teddy bear A sinistra A sinistra Vedi là C'è il coso Ah no non c'è Sì E dall'altra Ah no c'è Ma come mai E' già tolto Cosa? Ah no Ah è tipo un bug sarà Ah no 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 Ok attenzione C'è Attento Madonna dei giardini così Sì mamma mia Eh lo so L'istintivo Però vedi E' meglio il giardino secondo me È vero Perché non fa paura Cavolo Ma che cacchio Ma non ci siamo ancora spaventosi Ma non ci siamo neanche Vabbè ammazza Tanto se sei diverti Fidiamo qua il video Sì dai Fidiamolo qua E bene tanto ormai Abbiamo perso Quindi grazie per la visione Iscrivetevi E ciao ciao